L'importanza della prevenzione di un corretto stile di vita e di effettuare controlli anche senza che ci si trovi in presenza di sintomi specifici è stato un tema che il Lions Club Padula Certosa di San Lorenzo ha voluto portare nelle scuole che questa mattina ha trattato in maniera approfondita e con l'aiuto di esperti presso le scuole medie di Polla, in particolare per ciò che riguarda l'alimentazione, il diabete e la vista. Un evento che la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Polla, Sabrina Rega, ha accolto con favore ed ha sostenuto anche per l'importanza che la tutela della salute riveste per il benessere psicofisico della persona e della società. Presso l'auditorium Rocco Giuliano, nella mattinata di oggi, i ragazzi sono stati protagonisti di un interessante convegno a cui hanno preso parte diversi medici esperti che hanno messo in evidenza l'importanza dei controlli preventivi, anche al figlio di individuare rapidamente eventuali problematiche che possono poi sfociare in patologie gravi, anche legate a possibili neoplasie. L'incontro si è aperto con i saluti della vicepreside Annalisa Di Gruccio, che ha portato i saluti della dirigente scolastica Sabrina Rega in possibilità da partecipare, ringraziando, anche a nome della preside, i presenti per aver voluto portare nella scuola il tema della prevenzione. Dopo i saluti del presidente del Lions Club, Padula Certosa Saverio Latorraca, che ha sottolineato l'importanza per il club di occuparsi della divulgazione di temi legati alla prevenzione, in particolare per ciò che riguarda l'alimentazione, il diabete e la vista, i lavori sono iniziati con la moderazione del dottor Nicola Ciliberti, che ha ricordato come una corretta alimentazione sia strettamente correlata alle patologie del diabete ed eventuali problemi alla vista. Ad intervenire sui temi in questione, la dottoressa Marzia Manilia, nutrizionista che si è soffermata sull'importanza di seguire un corretto regime alimentare per la prevenzione dell'obesità che può portare al sorgere di altre patologie, come anche problemi alla vista. E il dottor Antonio Filpo, pediatra, che ha intervenuto sull'importanza di un'alimentazione sana anche in età pediatrica. L'importanza dei controlli sin dall'età pediatrica sono stati ulteriormente approfonditi dagli interventi del dottor Vincenzo Lapadula e del dottor Antonio Lapadula. L'incontro ha visto poi la partecipazione anche del dottor Frank Romeo, che attraverso una approfondita analisi ha messo in evidenza come il corpo umano ed ogni patologia sia strettamente collegata ad ogni parte del corpo, evidenziando in particolare l'importanza dei controlli visivi che possono anche portare ad individuare patologie che potrebbero rivelarsi gravi, in particolare verificando lo stato del nervo ottico.